Creatività, intuito, libertà sono queste le parole chiave per raccontare la qualità dei luoghi dell'anima e riscoprendone ricchezze e bellezze, come Villa Laquiete, residenza di Anna Maria Luisa dei Medici, l'elettrice palatina, dove si è svolto l'evento letterario e musicale Intuito come l'acqua alla terra. Secondo appuntamento della rassegna Anime Loci, curata dall'associazione culturale, la nottola di Minerva è inserita nel progetto speciale La Toscana delle donne promosso dalla regione. Sul palco la cantautrice Letizia Fuochi e la scrittrice Margherita Loi. Intuito è il sesto senso, ne abbiamo cinque più un sesto che è tipico delle donne e nella Toscana delle donne ci tenevamo a partire da questa parola perché per noi aveva un significato particolare in un luogo del genere, luogo di spiritualità e di creatività e di arte. Mi sembra questo Anime Loci che è la rassegna organizzata dalla nottola di Minerva, dedicata alle donne e appunto e alla terra, particolarmente significativa anche in termini delle parole che dobbiamo abituarci a gestire in modo più approfondito come rispetto, come rispetto dell'essere umano, come rispetto della terra. La performance Intuito come l'acqua alla terra ha raccontato il contemporaneo partendo dall'immensa eredità artistica lasciata a Firenze dall'elettrice palatina affinché rimanesse per sempre patrimonio pubblico.